La San Silvestre al Mare è una delle tradizioni più belle, più antiche e più partecipate della città di Catania. È alla 59esima edizione e i catanesi accorrono sempre in massa a partecipare sia agonisticamente, quindi facendo la gara, sia come pubblico. Proprio per il legame che esiste tra la città di Catania, i catanesi e questa bellissima manifestazione. Un modo anche per ricordare chi la ideò circa 60 anni fa e l'organizzò per diversi decenni, che era Lallo Pennisi, un grande uomo di sport e dalla sua scomparsa la Noto Catania ha assunto l'onore e l'onere di organizzarla e di portare ancora per tanti anni questa tradizione avanti. Dunque, per lei cosa rappresenta esattamente questo grande evento? Per me è una cosa molto importante, sia perché l'ho fatta da giovane come gara, sia perché Lallo Pennisi, che appunto era l'uomo di sport che ha organizzato questa gara, era il mio allenatore nella vecchia società di Pallannoto, nella gloriosa Ionica, e appunto per l'importanza che questa manifestazione ha per la città di Catania. Quindi credo che sia per noi un momento importante quello di continuare appunto questa tradizione a cui sono molto legati i catanesi. Come vivrà proprio da presidente la cinquantanovesima edizione della Sanzi di Vestro a Mare? Senza dubbio l'avrò nel ricordo di Lallo Pennisi. Io ho bellissimi ricordi di Lallo, lo ricordo da ragazzo, da quando giocavo a Pallannoto, e Lallo era il nostro manager, il nostro allenatore, il nostro amico, quello che ci redorguiva per qualche errore che secondo lui facevamo, quello che però ci spronava. Quindi io ricordo in questo momento Lallo, ricordo tutta la sua famiglia, e ricordo anche il passato della Ionica, che con il nuoto e Pallannoto ha avuto grandissimi successi, ad esempio come abbiamo avuto nazionali come il nostro Franco Derrigo, nostro socio, ex vicepresidente allo sport, e quindi la Sanzi di Vestro a Mare per me è un ritorno al passato. E ricordo che è quella della tradizione della Ionica, a incentivare lo sport, perché lo sport sia a livello amatoriale, sia a livello agonistico, è qualcosa che forma i ragazzi e li forma nella vita, perché gli insegnamenti che dà lo sport, fatto con amore, sono insegnamenti che servono sicuramente per tutta la vita e per andare avanti nella professione e nei rapporti con la famiglia, con gli amici e con tutti. Un ricordo più bello che ha avuto nel corso della sua esperienza? Ricordo simpaticissimo. Quando io sono sceso per la prima volta in masca alla piscina comunale, non mi ricordavo che bisognava mettere due costumi, quindi al primo scatto sono rimasto nudo in piscina. E l'anno che mi diceva, ma cove, lo tu roddasti? E io ci ho detto no. Antonio, dunque, tu sei uno degli storici organizzatori di questa manifestazione. Sì, nel senso che da moltissimi anni, forse più di 25-30 anni che seguo questa manifestazione, è una manifestazione ovviamente non competitiva, per cui non ci sono giudici, non ci sono giudici che determinano un arrivo, ma è tutto fatto, come si può dire, in famiglia, perché questa è una festa della famiglia, dei nuotatori, dei pallanotisti, del nuoto in genere. E quindi abbiamo sempre mantenuto lo stesso stile, nel senso che non abbiamo mai modificato quella che era nello spirito di Lallo Pennisi, perché Lallo voleva una competizione solamente di gogliardia, di gente che aveva il piacere e il desiderio di voler fare una nuotata. E così è stato sempre, e così lo sarà ancora, speriamo, per gli anni futuri. Qual è il messaggio che vuole mandare questa competizione? Il messaggio è quello della fratellanza, dell'amicizia, perché tutti quelli che vengono, oltre quelli che nuotano, ma anche quelli che vengono a vedere questa manifestazione, è un modo come un altro di dirsi e di farsi gli auguri per il nuovo anno che viene. Ecco perché è stata fatta questa... All'inizio era stata fatta proprio da Lallo Pennisi per dire affrontiamo il nuovo anno con uno spirito nuovo, facendo una cosa vecchia, che è quella di notare. Grazie.